Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In apertura all'iniziativa di sabato 19 dicembre a Torre del Greco sono stati effettuati tamponi antigenici presso il parcheggio Palatucci nei pressi del complesso La Salle. Abbiamo ascoltato il sindaco Giovanni Valomba e il dottor Vincenzo Schiavo. Consueto punto Covid nel Vesuviano, dall'inizio della pandemia a Torre del Greco registrati ben 1990 casi di guarigione. Una nuova variante del coronavirus, il ceppo scoperto nel Regno Unito, arriva anche in Italia, isolata una donna che tornava da Londra. Ora spazio alla cronaca, rafforzati i controlli della Guardia di Finanza nel weekend su tutto il territorio napoletano, maxi operazione tra chiusure di attività e multe salate. Infine spazio allo sport con la Turris che sfiora l'impresa a Liberati. 2-2 nella sfida contro la capolista Ternana, prossimo match contro la Cavese che chiuderà l'anno solare dei Coralini. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Giornata di screening anti-Covid a Torre del Greco. Sabato 19 dicembre, al parcheggio Palatucci nei pressi del complesso La Salle, c'è stata la somministrazione gratuita di tamponi antigenici. Un'importante iniziativa portata avanti dall'amministrazione comunale insieme ai medici della cooperativa Medicop Veseo. La manifestazione si è svolta in massima sicurezza. Divisi per fasce d'orario i cittadini ben distanziati, si sono a turno recati presso il track per l'effettuazione dei tamponi prenotati esclusivamente dai rispettivi medici di famiglia. Alle nostre telecamere il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palumba e il dottor Vincenzo Schiavo. Sono iniziative che vedono la collaborazione dei medici, dell'amministrazione comunale e questo è importantissimo perché dà forza affinché praticamente è la dimostrazione che la città è presente e diamo tutto quello che praticamente può servire ai nostri cittadini. Sono stati anche acquistati i saturimetri che sono fondamentali. Li daremo alle famiglie che in questo momento sono ancora a casa per quanto riguarda il Covid, li daremo ai medici di base, alle RSA perché i saturimetri e l'ossigeno, l'ossigeno e vita. Siamo riusciti a mettere su una organizzazione abbastanza importante e performante per poter ottemperare ai compiti della medicina generale per quanto riguarda l'effettuazione di tamponi rapidi ai nostri concittadini. L'iniziativa prevede che questi tamponi vengono prenotati presso il proprio medico curante, quindi nei propri studi e i pazienti ricevono dopo essere stati prenotati un SMS che dà l'appuntamento loro con il luogo e l'ora dove eseguire i tamponi. Questo ci permetterà di tracciare questi pazienti, magari di riconoscerli precocemente se sono positivi e cominciare a trattarli ancora di più precocemente. Tutto questo è stato fatto con la collaborazione della Medicop Vesevo che è una cooperativa di medici dell'ASL Napoli 3 Sud di cui io sono il vicepresidente e il presidente è il dottor Paolo Delicuro. La cittadinanza è molto ordinata, i cittadini si stanno comportando in maniera molto civile e devo dire che è un'occasione che secondo me dobbiamo di nuovo mettere a disposizione dei nostri concittadini. A Torriere del Greco registrati nel weekend 16 nuovi casi di positività al Covid-19 di cui 14 soggetti in isolamento domiciliare e 2 ricoverati, comunicati in oltre 5 nuove guarigioni. Muta dunque il bilancio dei contagi nella città, 40 cittadini ospedalizzati, 282 posti in isolamento domiciliare, 1990 guariti e 58 deceduti. Nei giorni 18 e 19 registrati nella città di Castellammare di Stabbia 38 nuovi casi positivi al virus su 479 tamponi lavorati. Registrati dai casi positivi cittadini di età avanzata, un 85enne ed un 86enne. Dichiarati guariti infine 26 cittadini. Il bilancio dei contagi continua a cambiare a Castellammare di Stabbia, 1.561 tuttora positivi, 1.126 guariti e 27 deceduti. A Portici nei giorni del 10 e 17 dicembre accertati 54 nuovi casi di positività al Covid-19 su 1.018 tamponi effettuati, con una percentuale di positivi sul numero di tamponi del 5,3% e con un numero di guariti in gran lunga superiore al numero di nuovi positivi. Sono 13 nuovi casi di contagio da Covid-19 attore annunziata. Al contempo si registrano anche 12 guarigioni ed un decesso. 197 cittadini attualmente positivi, 184 posti di isolamento domiciliare e 13 ricoverati. Sala in 1308 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus attore annunziata, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1.083 guarite e 28 decedute. Variant Under Investigation Variant Under Investigation, o semplicemente VUI 2020, è questa la sigla della nuova variante di coronavirus che fa tremare l'Europa. Il nuovo ceppo virale è stato scoperto nel Regno Unito, dove nelle ultime settimane si è registrato un aumento dei casi di contagio. La nuova variante del Covid-19 è ormai fuori controllo, ammette Matt Hancock, ministro della Salute britannico. Il nuovo ceppo circola più velocemente. Gli fa eco il primo ministro Boris Johnson, che ha imposto nuovamente il regime di lockdown a Londra. Immediata anche la reazione da parte degli altri paesi. Sono numerose le nazioni, Italia compresa, che hanno chiuso i voli da e per il Regno Unito, ma la mutazione del virus circola già nel continente. I primi casi, oltre ai confini britannici, si sono registrati in Olanda, Danimarca e Australia. Il Ministero della Salute, in una nota diramata nella serata di ieri, annuncia che la variante è arrivata anche in Italia. Si tratta di una donna italiana, prontamente isolata, insieme ai contatti stretti, così come previsto dal protocollo sanitario. E all'esame delle autorità sanitari pugliesi, inoltre, una ragazza a 25 anni, rientrata giovedì scorso a Bari da Londra, con la febbre. La giovane, sottoposta a tampone nel capologo pugliese, è risultata positiva al coronavirus. La mutazione è in questo momento studiata allo Spallanzani di Roma, così come annunciato dall'Unità di Crisi del Lazio. La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati, dichiara il Ministro Speranza. Nel frattempo, scegliamo la strada della massima prudenza. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato, anche in questo fine settimana, il dispositivo dei controlli del territorio, compresa la vigilanza fissa ai mori di imbarco, in aeroporto e sulle isole del Golfo, volte a monitorare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus. In totale, tra venerdì e domenica scorsi, sono state controllate, tra il capoluogo e l'area metropolitana, 868 persone e 140 attività commerciali, 33 le sanzioni complessive. Cittadini sorpresi fuori dal proprio comune di residenza, in orari non consentiti, senza un valido motivo, senza i dispositivi di protezione individuale o a consumare cibi e bevanti all'interno di bar. Queste le principali violazioni registrate. E poi quelle situazioni illecite, tipicamente di interesse delle fiamme gialle, come contrabbando di sigarette, spaccio e uso personale di sostanze stupefacenti e commercio di botti illegali. Più in dettaglio, il secondo nucleo operativo metropolitano nel quartiere Agnano, nel corso di un controllo presso un circolo privato, ha sequestrato 312 euro in contanti e 6 videoslot prive di autorizzazioni e non collegata alla rete tematica. Denunciato è sanzionato il gestore del centro scommesse, sia perché doveva restare chiuso, sia per la mancata esposizione della tabella giochi proibiti. La compagnia di Portici ha sanzionato l'associazione sportiva direttantistica, che era aperta al pubblico anche a persone non tesserate dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo, nonostante i divieti disposti alla chiusura del circolo per 5 giorni. Inoltre, dai controlli anti-covid sono emerse anche altre situazioni illecite e notoriamente di diretta competenza del corpo. La compagnia di Castellamare di Stabia ha tratto in arresto a Vic Quenze un 26enne pregiudicato nei cui confronti sono stati trovati a seguito di una perquisizione domiciliare, 500 euro in contanti e due penetti di hashish, del peso complessivo di circa 200 grammi, occultati all'interno di un cassetto della camera da letto. La compagnia di Torre annunziata, nel corso di una perlustrazione di un'area incustodita di vita a cantiere edile, ha scoperto all'interno di un rudere diversi involucri di cellofan trasparente, termosaldato, contenenti 154 grammi di cocaina e 367 grammi di marijuana. Le stesse fiamme gialle hanno sequestrato a Bosco Reale anche 18.100 fuoghi virotecnici, contenenti 12 kg di polvere da sparo, messi in vendita da un negozio di articoli per la casa abusivamente e senza certificazione per la prevenzione di incendi. Denunciato responsabile. Compie l'impresa la tourist mister Fabiano, che impone il pareggio alla capolista Ternana, che veniva dall'impressionante striscia di 11 vittorie consecutive. Gli Umbri, allenati dall'ex Napoli Cristiano Lucarelli, partono forte e trovano subito il vantaggio con una perfetta punizione di Falletti, che trova l'angolo dove il portiere Corallino non può arrivare. Ma la tourist non si scompone, con un perfetto contropiede Pandolfi arriva nei pressi dell'area avversaria, supera il difensore Boben e insacca alle spalle di Iannarilli. Pochi minuti dopo è franco ad iniziare l'azione con un assist perfetto, regala ancora a Pandolfi il pallone del raddoppio con un preciso colpo di testa. All'intervallo è un clamoroso Ternana 1, tourist 2. Nella ripresa è un vero assedio rosso-verde. Più volte i padroni di casa si avvicinano all'area corallina, ma la difesa respinge tutti gli attacchi fino al 27esimo quando un abbagnale in uscita avventata travolge l'esperto vantaggiato e causa il rigore che Falletti trasforma nonostante lo stesso portiere intuisca il tiro del giocatore Umbro. Si conclude quindi in parità una partita molto combattuta che consolida la posizione in classifica della Turris, ben lontana dalle zone pericolose. Mercoledì l'ultima sfida dell'anno prima delle feste natalizie. A Liguri arriverà la Cavese. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione-tvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. Grazie e al prossimo appuntamento con l'informazione di TV City. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.